carissimi amici buongiorno buongiorno a tutti è una bellissima giornata di sole come avete modo anche di vedere con il sole che parzialmente entra in macchina e questa giornata di sole mi induce a fare una piccola riflessione sul valore della motivazione perché vi dico questo stamattina alcune persone non credono nemmeno loro stesse a ciò che fanno per cui se non si crede in ciò che si fa certamente non si possono ottenere risultati proprio pochi giorni fa parlavo con un mio nipote proprio che praticamente cosa ha fatto prima tentava di fare vari tipi di lavoro con corsi eccetera con scarsi risultati però lui aveva una passione una passione quello di di fare lavori sui tessuti sul filato lavori di filato di maglie di tessuti e allora a un certo punto ha capito che doveva andare verso la sua passione e insieme a un amico si è aperto si è aperto un negozio che fa questi lavori diciamo di tipo astigianale e nel giro di pochi mesi ha una sua clientela e una sua soddisfazione magari è impegnato anche tante ore al giorno ma lo fa con con la passione con la dedizione questo per dire questo messaggio che se noi stessi non crediamo in quello che facciamo non possiamo aspettarci dei risultati oppure se ci osteniamo a fare quello che a noi proprio non piace normale che tutto pesa per un periodo della vita per necessità si può anche fare qualcosa che non piace ma deve essere comunque un qualcosa di limitato nel tempo cioè in attesa di allora io per un mese due mesi sei mesi un anno faccio qualche altra cosa ma bisogna sempre tendere a fare quello che piace a metterci la passione e la motivazione è un piccolo segreto vedete ma questo in tutte le cose della vita vedete anche fra due squadre di calcio no per gli appassionati di calcio vedete che quando due squadre bene o male sono di pari forza però se una delle due c'ha una motivazione superiore perché deve come dire deve uscire fuori da una crisi oppure deve raggiungere un traguardo importantissimo la motivazione crea la differenza nei confronti dell'altra squadra e questo è importante poi un'altra cosa importante che a volte ci sono dei falsi obiettivi cioè quando noi a noi piace qualcosa iniziamo un percorso dobbiamo essere tutti lì nel senso che non dobbiamo incaponirci se alcune cose non vanno bene e a farle andare per forza in quel senso la bisogna aggiustare il tito cambiare fare dei cambiamenti sa come come i percorsi che fanno gli animali che magari trovano degli ostacoli e fanno altri giri fino ad arrivare all'obiettivo quindi la duttilità è anche un'altra cosa molto importante che io dico ai giovani che noi dobbiamo dire ai nostri figli che dobbiamo dire ai nostri nipoti quindi la motivazione la passione motivazione passione e duttilità cioè essere pronti al cambiata ad aggiustare il tiro a fare delle modifiche incaponirsi non è mai mai bene dobbiamo seguire la nostra inclinazione quindi dobbiamo seguire la nostra inclinazione quella che ci piace perché ognuno c'è la sua strada se si vede bene ognuno c'è la sua passione la sua strada vedete un gatto un gatto non può mai volare un uccello non si mette a fare una ragnatella come fai il ragno ognuno c'è le sue caratteristiche poi vedete altri luoghi comuni io sento una volta no io me ne devo andare da qui devo andare dal nord devo cambiare città devo andare da un'altra parte può essere ma se è qualcosa di sentito non è che si cambia tanto per cambiare cioè il lasciare un posto per andare in un altro posto non è garanzia di nulla se non c'è una passione vera e diceva seneca non cambiare il cielo sopra di te cambia te stesso quindi cambiare per cambiare non è una caratteristica che ti garantisce chissà cosa devi avere prima le idee chiare io facendo un altro esempio familiare adesso vi sto raccontando le mie cose ci sta ad esempio la fidanzata di un mio figlio che ha la passione per l'insegnamento per la scuola ora sta facendo dei grossi sacrifici e sta in piemonte un paese del piemonte che praticamente praticamente lì per fare le supplenze ora capirete bene che specie per una ragazza stare lontano da casa in questi territori che non sono i suoi territori dei sacrifici in mani per mesi e mesi con tutti gli annessi e connessi spese varie però la sua è una vera passione sorretta dalla passione dell'insegnamento e prima o poi otterrà quello scopo ma se doveva andare lì magari così lontano per fare un lavoro non a lei con geniale è ovvio è ovvio che non avrebbe resistito forse nemmeno un mese forse nemmeno 15 giorni forse nemmeno una settimana quindi è la motivazione che fa l'azione quindi motivazione passione e d'utilità questo è un consiglio amici miei che noi dobbiamo dare prima di tutto a noi stessi perché noi non è mai troppo tardi per fare quello che ci piace mai anche a 70 anni 80 anni ma soprattutto dobbiamo dare ai nostri figli e ai nostri nipoti dobbiamo dare questo semplice messaggio non è che uno consiglia devi fare questo devi fare quell'altro e vediamo spesso dei figli dei nipoti che fanno lavori con veramente malinconia perché non piace non facciamo le cose che non ci piacciono oppure facciamole soltanto per un breve periodo ma dobbiamo perseguire quelle che a noi piace questo è il mio messaggio semplice di stamattina perché ho incontrato questo mio nipoti appunto che c'è questo negozio di tessuti di filati e l'ho visto così felice ho detto devo dire questa cosa qui l'ho visto così felice e quindi dobbiamo dobbiamo insistere per questo messaggio qui grazie grazie per una buona giornata splendente come questo sole e che il sole sia sempre nelle nelle nostre vite un abbraccio a tutti